È un'iniziativa che è partita appunto per sostenere determinati esercizi, poi però si è sviluppata e tutti insieme stiamo cercando di creare una rete grazie alla quale appunto un cliente può recarsi in un negozio e fare come regalo dei buoni per tutti gli esercenti che aderiscono. Quindi se io mi ricco ad esempio in libreria posso fare anche un buono per l'abbigliamento, scegliendo tra i negozi che hanno aderito e in questo modo si eviterà di girare troppo, che in questo momento non è granché indicato, e si sosterrà tutto il territorio. Sono tante le attività che hanno iniziato ad aderire a Dio Supporto e ti chiedo anche quindi le modalità, un po' come funziona, la gente inserisce in una cassettina e poi che cosa gli viene dato? Allora sì, gli esercenti hanno risposto bene, siamo già una trentina ma è una lista che è destinata a crescere di giorno in giorno. Considerate che l'iniziativa è di qualche giorno fa, per cui insomma siamo solo proprio all'inizio e già molti hanno risposto bene. Sì, quando un cliente viene e vuole donare, mette i soldi in un'apposita cassettina che abbiamo preparato e dopodiché gli viene dato, gli viene consegnato un buono, la cui matrice rimane ovviamente al negoziante per appunto recuperare il buono in un momento più favorevole. Ad esempio se uno volesse donare una colazione lo può tranquillamente fare per poi aspettare quando saranno tutti aperti in maniera regolare e farsi la sua bella colazione in maniera comoda, però può anche appunto decidere di sfruttare questa occasione per fare i suoi regali di Natale e quindi in questo caso vengono rilasciati proprio dei buoni con scritto la destinazione del negoziante e sono più grandi, sono proprio formato diciamo gift card e poi ci occuperemo noi tra noi di organizzarci e distribuire i vari buoni ai negozi. Una bellissima iniziativa che è partita come hai detto tu pochi giorni fa da un video praticamente pubblicato su Facebook dove più che altro forse volevi fare anche una riflessione personale, poi in tanti ti hanno appoggiato e simbolo che c'è ancora tanto del buono diciamo nelle persone. Sì, per fortuna sì, è vero, è partito diciamo quasi per scherzo da una riflessione mia e poi si è sviluppata, quindi insomma penso che sia solo positivo.